è sorta la necessità di dovere spostare questa presa quindi adesso Tony si fa il lavoro tanto bellino e così mi risparmia sudore a me ora Tony dobbiamo fare il prolungamento dei cavi quindi adesso Tony sta mettendo il cappuccio nei cavi che vanno nivi ok Tony ma come mai abbiamo messo tre conduttori di colore diverso mi spieghi per favore hanno un motivo o sono a caso? no hanno un motivo il grigio è quello che dà la linea alla corrente quindi porta la corrente il blu è il neutro ovvero quello che fa ritornare la corrente e invece il giallo verde in caso di cortocircuito fa scattare il salvavita così uno non dovrebbe prendere la corrente è il filo dell'impianto di messa a terra va bene schiaccia dritto alza quel travolo vai dai dai fai fai premio premio deve entrare tutta la punta altrimenti il tassello non entra dai metti i tasselli ora è entrato? sì dai un coppettino di martello ok metti il tassello pure nell'altro foro ok si si prepara le vite e poi gli avvicini i tasselli e le avvicini dai boh forza dai prendi il cacciavito tu hai il cacciavito l'ho messo là vicino avvitela leggermente non l'avvitare appuntala fino a quando è un pochettino in modo da ne fermare la cassetta boh metti l'altra vite e poi le avviti dopo con calma ok così la cassetta non ti cade a terra hai capito? ok avvita dai prima una e poi l'altra forza puoi lasciare lavora con tutte e due le mani c'è la vite che l'hai appuntata prima quindi la tiene lei ok così dovrebbe essere dai forza avvita avvita fino in fondo dai tutte e due forza Tony mi spieghi il collegamento del ponticello per favore allora quello latilinea allora se no allora il primo filo lo serve lo serve per farlo qua la prima presa la prima presa il ponticello poi lo fa andare nella seconda presa alza alza non si è vista la seconda presa la seconda presa perfetto e poi dalla seconda presa e poi dalla seconda presa inizia a salire su ah e portiamo la corrente anche su e portiamo la corrente anche su ah ecco cosa serve il ponticello va bene avanti dopo aver fatto il collegamento richiudiamo tutto e ora facciamo la prova se funziona tutto adesso facciamo il collaudo vediamo se la corrente arriva dappertutto ok accendi il fondo perfetto schiaccia il pulsante della luce sopra vediamo se sopra arriva la luce vediamo schiaccia perfetto e tutto funziona perfetto va bene dopo ora dopo ci mettiamo le canaline con calma copriamo tutto abbiamo finito adesso proviamo se arriva pure la corrente alla ciabatta collega la presa della ciabatta e proviamo pure se arriva la corrente alla ciabatta sopra metti il fondo anche sopra boh no funziona? perfetto funziona tutto va bene possiamo mettere le canaline per coprire i fili e abbiamo fine del lavoro grazie a tutti Grazie a tutti.